Tutti insieme uniti per l'ambiente. Questo è il tema al centro dell'unità di apprendimento trasversale a tutte le discipline affrontato dagli alunni delle classi quinta C e quinta D del plesso Tommaso Fazzello del primo circolo didattico Giovanni XXIII di Sciacca. Gli alunni le insegnanti sin dall'inizio dell'anno scolastico hanno lavorato su uno dei 17 obiettivi dell'agenda ONU 2030, precisamente l'obiettivo 11, che ha come finalità quello di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, dinamici e sostenibili. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente è stato realizzato il video conclusivo del progetto, dedicato all'ambiente come bene mondiale, ponendo l'attenzione in particolare su Sciacca, con l'auspicio che la città possa crescere in arte, cultura e turismo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!